Buongiorno a tutti, sono sempre Victorazzo Antotto e vi ricordo che in descrizione sotto trovate il link e vi rimane dalla homepage del sito Ipampling dove trovate un sacco di magliette con stampe veramente belle che vengono aggiornate in continuazione poi trovate anche le cover per smartphone con oltre 600 stampe le scarpe le calze e tantissimi altri prodotti tutti rigorosamente a tema nerd se usate il mio codice sconto VILASLO per un qualunque acquisto avrete un paio di calze in omaggio che ottenete aggiungendo al carrello un paio di calze alla vostra scelta inserite il codice e le calze automaticamente diventano un omaggio è compatibile questa offerta con tutte le promozioni ma solo esclusivamente con la promozione 4x40 che vi permette per appunto di comprare 4 magliette a 40 euro se voi utilizzate il codice non solo avrete il paio di calze in omaggio ma non pagherete nemmeno le spese di spedizione quindi questa è la promozione con cui il codice è maggiormente compatibile quindi se vi interessa sapete cosa fare ora però bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi sigla allora oggi voglio parlare della seconda parte di una serie di cui mi avete chiesto di parlare in tantissimi mi riferisco naturalmente a Le Pen serie originale Netflix con protagonista Omar Sy allora la prima parte io l'avevo definita carina secondo me in generale stando a quello che è uscito finora riguardo a questa serie non si può definire in nessun altro modo se non carina perché ho sentito qualcuno dire no fa schifo e altri dire una serie fantastica una delle migliori che abbiamo visto io credo che sia una serie ok ti intrattiene quando la guardi un episodio tira l'altro si guarda in un giorno se magari siete particolarmente liberi non avete granché da fare nel giro di poche ore vi siete guardati la prima parte e se volete proprio allungarvi vi guardate entrambe le parti in una decina di ore ma anche meno quindi in realtà è una visione abbastanza rapida e proprio per il fatto che sono poche puntate io che non bingo di solito le serie ho iniziato a guardarla intorno alle 10 di sera e nel giro di poche ore l'avevo praticamente finita perché avevo voglia di vedere come andavo avanti ma continuavo a pensare sì ma questa cosa è molto tirata perché effettivamente stiamo parlando di una serie che ha delle sue idee interessanti ma che ha anche diversi buchi di trama o comunque cose che non sono particolarmente realistiche non è che io mi aspetti chissà quale il realismo una serie del genere però mi aspetto che magari non ci siano troppe cazzate e in questa seconda parte di cazzate ne ho viste più di una però comunque non è importante alla fine ero settato sull'idea di vedere qualcosa di simile alla prima parte ed effettivamente i difetti sono più o meno quelli per cui non mi lamento e anche questa seconda parte secondo me ci sta non è niente particolarmente eccezionale però almeno chiude il cerchio infatti credo che se volessero potrebbero anche non continuare ma penso lo faranno solo che adesso dovranno cambiare la storia perché la storyline iniziata con la parte 1 si è praticamente conclusa farò spoiler quindi se non avete ancora visto questa seconda parte non proseguite con la visione del video perché vi rovinerei la sorpresa per cui siete avvisati allora a me la cosa che più piace di questa serie è il fatto che non sia un'operazione alla Sherlock ovvero una modernizzazione delle storie di un personaggio molto noto nella letteratura perché ad esempio in Sherlock Benedict Cumberbatch interpretava Sherlock Holmes ma calato in un contesto contemporaneo a San Diop che è il protagonista di questa serie non è Arsenio Lupin non è una rivisitazione del personaggio scritto da Maurice Leblanc no è una persona ossessionata dal personaggio creato da Leblanc al punto da diventare lui stesso un ladro una sorta di Lupin contemporaneo ma in un mondo che è il nostro in cui esiste il Lupin di Leblanc e quindi diciamo che lui ne diventa la versione reale però non è una riscrittura del personaggio e in questo modo hanno avuto molta più libertà per creare la serie e nella prima parte vedevamo che Hassan cercava di vendicarsi di questo uomo potente Hubert Pellegrini che aveva incastrato il padre di Hassan dicendo che aveva rubato questa collana ma lui voleva solo incastrare il soldo di assicurazione l'uomo poi è morto in galera e in questa parte scopriamo che in realtà non si è suicidato come si diceva ma è stato ucciso proprio a causa di Pellegrini e quindi insomma da questo punto di vista la storia è anche interessante il problema è che ci sono tante cose che non tornano ad esempio la prima parte finiva con il sicario di Pellegrini che però lo stesso come ha ammazzato il padre di Hassan se non erro si scopre dopo che per l'appunto aveva rapito il figlio di Hassan e qui nelle prime puntate Hassan va a cercare di liberare il figlio che a un certo punto viene messo nel bagaglio di questa macchina che sta per esplodere alla fine della puntata in cui questo accade sembra che il ragazzo sia morto in realtà è stato soccorso da Yousef che è l'unico dei poliziotti che sono una manica di imbecilia a parte lui che ha capito che Hassan si ispira a Leblanc scrittore di cui lui è molto appassionato ed è la sola persona che trova un parallelismo tra ciò che fa Hassan e ciò che nei racconti di Leblanc faceva per l'appunto Arsène Lupin quindi quando il ragazzo è nella macchina ti fa vedere poi una puntata dopo come è stato salvato il problema è che tra le due puntate quando si comparano le scene non c'è il tempo materiale perché Yousef abbia potuto fare quello che abbiamo visto e quindi ero lì che dicevo boh cioè ma è come se ci avessero mostrato una cosa e poi nel raccontarcela ci avessero detto tutt'altro e io ero lì che pensavo ma non potevano studiarsela leggermente meglio a livello di tempi poi guardando una serie del gire io non mi faccio troppe pipe mentali perché comunque avevo voglia di guardarla e va bene così ci sono sempre scene in cui lui nonostante sia un super ricercato passeggia tranquillamente al parco con tutti che potrebbero riconoscerlo cosa che avviene a un certo punto lui non si fa problemi a girare ho capito che è un artista della fuga è tutto quello che volete però un minimo di cautela poi soprattutto dopo che il figlio è stato rapito è stato preso dalla polizia perché c'è il commissario che è corrotto da Pellegrini e Pellegrini vuole usare il ragazzino come esca non lo so io personalmente trovo che ma si è un po' un po' tutto buttato lì cioè nessuno che dice al commissario senta lei ma che cazzo sta facendo io capisco che è il commissario ma se il commissario prende il bambino e dice no no lo portiamo di su che dobbiamo fare una cosa ma stai scherzando cioè sto bambino sto ragazzino è stato rapito c'è la madre che sta morendo di paura la polizia lo prende lo tiene in custodia ma da quando cioè io capisco la corruzione ma non sono tutti corrotti i poliziotti nella serie Yussef per primo è una persona onesta e infatti Yussef è l'unico che fa qualcosa per l'amor del cielo però anche il commissario è un bel coglione cioè va bene che sei corrotto va bene che hai una morale discutibile però non puoi neanche essere così imbecille santo cielo cioè dovrai a un certo punto avere un minimo di accortezza per capire che se ti comporti in maniera così platealmente scorretta probabilmente finisce che prima o poi ti beccano infatti esattamente quello che ha accaduto alla fine lo arrestano come è stato l'altro odioso che si comporta con superiorità nonostante sia una merda ma forse è peggiore addirittura Pellegrini cioè Pellegrini veramente proprio pezzo di merda fino alla fine un cattivo comunque interessante devo essere sincero non è male come cattivo Pellegrini è proprio lo stereotipo dell'uomo d'affari di merda senza scrupoli e vabbè e diciamo che le puntate sono sicuramente molto interessanti perché comunque vediamo a San che cerca in tutti i modi di distruggere Pellegrini addirittura arrivando a irretire la figlia permettendo cioè dando gli strumenti per convincere la madre a testimoniare su quello che il marito cioè Pellegrini aveva fatto a 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 Pellegrini mette tutto però il punto è che dopo un po' diventa ripetitivo il meccanismo Hassan frega Pellegrini ma Pellegrini è potente corrompe chiunque e riesce a uscire dalla situazione di contro per vendetta farà qualcosa terribile ad Hassan scatenandoli lo scagnozzo e poi fa ammazzare lo scagnozzo nell'appartamento di Hassan in modo che lui venga accusato dell'omicidio del tizio ma Hassan è più furbo e quindi Hassan ha messo le prove che non è stato lui insomma è un continuo ti tira una stoccata la schivo tenete di un'altra la schivo tenete di un'altra che può anche starci se non fosse che è dalla prima parte che succede questo dopo un po' io mi stavo un attimino stufando di vedere lo stesso meccanismo ripetuto ancora 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 finché alla fine Pellegrini non riceve una stoccata più forte non riesce a schivarla viene preso in pieno e sono cazzi suoi però ad esempio ci sono degli interessanti flashback che ci mostrano il rapporto tra Claire l'ex moglie o comunque ex compagna di Hassan che servono per mandare un messaggio antirazzista perché la questione del razzismo è un po' al centro di quella che è la storia di questo Lupin perché comunque è un uomo nero che ha subito razzismo fin da quando era ragazzino addirittura Claire quando era ragazzina doveva prendere questo violino per un'audizione ma costava tanto e l'uomo del negozio l'uomo dei violini diceva eh lo so costa un po' però magari vediamo arriva Hassan e dice non si può fare rate lui dice no per voi no perché Hassan è nero e allora Hassan cosa fa? ruba un violino molto costoso ovviamente da bravo scemo questo se ne accorge subito e vuole dargli una punizione esemplare ma non tanto perché è ladro ma perché nella testa di quest'uomo Hassan è ladro in quanto nero essendo nero è per forza un ladro quindi cerca di far capire che il razzismo è ancora una realtà molto forte e credo che sia importante perché la comunità nera in Francia è molto molto vasta addirittura più che in Italia è un paese veramente multiettico la Francia quindi vuole far capire un attimino la questione razzismo ricordiamoci che la Francia comunque nella sua storia recente ha avuto personaggi come la Le Pen non che voglio dire negli altri paesi è messi meglio noi abbiamo gente come Salvini ogni paese è il suo ogni paese è il suo è un po' preoccupante perché magari è una percezione mia a me sembra che un certo tipo di destra abbia iniziato ad avere molti più consensi soprattutto in Europa negli ultimi anni in Italia abbiamo Salvini ma c'è anche la Meloni perché perché solitamente questo tipo di idee vengono abbracciate dalle persone quando hanno una certa disperazione per una situazione di malessere prolungata da un punto di vista politico da un punto di vista di qualità della vita e solitamente si tende con una tattica vecea populista a raccogliere la massa intorno all'idea che la colpa sia di chi arriva a rubare il lavoro a rendere orribili le condizioni nel paese solitamente sono immigrati che hanno la pelle nera e questa cosa adesso è un discorso estremamente semplificato non arrivate nel commento a dire ma che cazzo dici non è così c'è di più per l'amor di Dio ma il succo del discorso è che un certo tipo di destra adotta questo tipo di tattiche populiste non è che lo dico io lo dice la realtà dei fatti andate a sentire i discorsi di Le Pen andate a sentire i discorsi di Salvini della Meloni e di tutto questo pool di personaggi meravigliosi e si sono ironico e vi accorgerete che effettivamente forse forse cazzate non ne sto sparando solitamente quelli che dicono no non è vero sono persone che abbracciano quegli ideali e non vogliono sentersi dire che sono ideali razzisti fatevi una ragione negarlo non lo renderà meno vero comunque sia adesso arriveranno quelli zecca ehi solita ecco la solita zecca sì quindi insomma perché essere antirazzisti è notoriamente da zecche comunisti cose varie ovviamente poi parlare di comunismo nel 2021 ha veramente un grande senso sì 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 assolutamente tutti i grandi fan del comunismo nel 2021 sicuro parliamo di sinistra al massimo e comunismo direi che è una realtà che ciao eh comunque a parte questa piccola parentesi che però c'entra con la serie perché la serie vuole dimostrare questo era per dire che il problema del razzismo viene affrontato in una maniera un po' diversa rispetto a come verrebbe affrontato l'Italia perché in Francia c'è una situazione differente con una comunità composta da persone che sono scappate da varie zone dell'Africa e quant'altro molto più vasta è un melting pop molto più intenso quello francese per cui da questo punto di vista però devo dire il razzismo è affrontato ma forse in maniera leggermente superficiale perché a un certo punto sembra che non vogliano più andare a fondo nella questione come se all'inizio avessero voluto inserirti la tematica antirazzista ma poi a un certo punto avessero detto però aspetta basta smettiamola ci sono cose più importanti di cui parlare nella serie ma come quindi questi flashback sono propedeutici comunque anche a farti capire un po' il rapporto che c'è tra i vari personaggi a me piace molto il rapporto che c'è tra Juliet Pelegrini che è per l'appunto la figlia di Pelegrini e lui perché lui aveva tradito Claire più volte con Juliet e qua sembra che lui dopo che Claire lo ha rifiutato definitivamente in seguito rapidamente il figlio che comunque è finito bene perché il figlio è stato riportato a casa decide per l'appunto di farci una vita con lei ma in realtà non è così la sta solo usando per cercare di incastrare il padre di lei e lui dice il padre di Juliet mi ha ha usato il mio figlio allora io userò la sua che è una una cosa terribile perché capisco che si è incazzato eccetera però usare in quel modo una persona non dovrebbe essere una buona cosa è vero che poi in un certo senso l'ha aiutata perché il padre stava rubando soldi alla fondazione quello ci sta tra l'altro il l'intermediario che stava preparando la truffa questo grande esperto finanziario si scopre a un certo punto che è un ragazzo soldato da San e dal suo amico per per incastrare Pellegrini e Pellegrini ci casca con tutte le scarpe e questa è una cosa che francamente mi ha un po' fatto sorcire il naso perché Pellegrini è un pezzo di merda però non si dimostra essere un cretino è sempre un passo avanti al protagonista mi ha stupito che lui sia caduto così tanto nella trappola di Hassan preparata ad hoc perché loro cosa hanno fatto hanno telefonato alla banca insomma alla banca a cui si affida a Pellegrini dicendo di stare attenti a questo tizio che questo tizio che per l'appunto è uno che considera degli investimenti poco legali allora l'emissario della banca insomma il responsabile del conto di Pellegrini chiama Pellegrini dicendo mi raccomando stai allontano da questa persona ovviamente Pellegrini è una persona disonesta si segna subito il nome e lo contatta e quando viene contattato ecco che il pollo ci è caduto però il punto è uno come Pellegrini per come te l'hanno presentato fino a quel momento non dovrebbe essere una persona che va a cadere in un inganno tanto dozzinale poi per l'amor di Dio da un punto di vista della rivelazione del modo in cui te lo spiegano ci sta tutto perché la serie ha questo ha questo stile per cui a un certo punto si ferma la narrazione si va in un rapido flashback con un montaggio serrato che ti spiega come il piano è stato preparato e ti svela l'inganno che ci può stare è una cosa abbastanza classica da un punto di vista narrativo ripeto la serie ha i suoi alti i suoi bassi ci sono cose che sono interessanti gioisci quando lui vince la fine poi dice a Claire me ne devo andare starò io per un po' ma veglierò su di voi quindi chissà cosa ci racconteranno in eventuali prossimi prossime stagioni sono contento che abbiano chiuso questa storyline e che ne aprono un'altra però il punto è che forse il personaggio era talmente legato anche proprio per come è costruito per ragioni personali a a questa vendetta che onestamente non so quanto possa essere interessante vedere altre sue avventure senza un pellegrini di mezzo non vorrei diventasse troppo ridondante come cosa e quindi narrativamente ha dei momenti buoni e dei momenti un po' meno buoni io di cacate per appunto non viste ve lo ho spiegato finora ci sono tante cose che secondo me non tornano moltissimo però ad esempio molto carina la scena in cui lui per ingannare Claire le ruba il quadro al museo eccetera ma il problema è un altro anche lei è veramente scema cioè è veramente 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 scema cioè la cosa del quadro a parte il fatto che io non so come funziona in Francia ma questa riceve una notifica sul telefono non va a informarsi no lei è dipendente dalle notifiche delle notizie sul telefono ma si accorta che teoricamente questa notifica non sarebbe dovuta levarla perché è una cosa falsa cioè è tutto troppo raffazzonato cioè le cose in sé sono anche divertenti ma poi ti fermi a pensarci dici sì ma non torna non ha senso però ripeto siccome era così anche nella prima parte me la faccio andare bene anche perché veramente è una serie che tu guardi poi però già dopo qualche settimana che hai visto le puntate inizi a non ricordarti bene che cosa hai visto perché te la guardi tutte insieme magari perché comunque non è che sia particolarmente memorabile ti ricordi in generale di cosa parla però poi i dettagli iniziano a sfumare e infatti io ho dovuto rivedermi qualcosa nel fare questa accensione perché ho già visto un paio di settimane fa perché è già uscita da qualche giorno e mi stavo dimenticando cosa avevo visto capito quindi non lo so ripeto per me è semplicemente una serie carina però ha qualcosa che secondo me la prima parte non aveva un lato tecnico da denuncia penale il montaggio secondo il mio modesto punto di vista in alcuni momenti non ti fa veramente capire un cazzo di quello che sta succedendo la prima puntata probabilmente è stata girata da un operatore di camera con il polso spezzato perché io non potevo crederci così sembra un semmo un documentari con la macchina la presa tutta così io gli dicevo ma stai fermo ma che cazzo fai cosa che poi non c'è nelle altre puntate e adesso vi racconto un'esperienza a cui vi ho già accennato e questa è stata clamorosa ho avuto la fortuna punto di domanda nel caso specifico di vedere la serie proprio come primo prodotto che ho guardato su quel bestione che vedete alle mie spalle che è il bravi XR A90J che è un televisore di ne ho già parlato De Cristo è mostruoso questo televisore e mi avevano detto guarda con questo hai una visione un'esperienza di visione il più vicino possibile a quella dell'occhio umano la madonna ok guardo le varie puntate dico caspita si notavano di più difetti di regia il movimento di macchina che non va perché la definizione è un OLED è talmente esagerata che noti tutte quelle cose quelle piccolezze che però su una visione molto nitida iniziano a pesare a un certo punto cazzo arriva il momento la puntata delle catacombe anche quella ci sta la fuga delle catacombe è anche bella per l'amor di Dio la puntata delle catacombe e penso porca troia ma mi si è rotto il televisore ero spaventatissimo ce l'avevo da due giorni ho detto no cazzo la luminosità completamente sputtanata nella stessa scena stacco la fotografia giallina stacco contro campo azzurrina ho detto oddio mi si è sputtanata qualche ciobbo ho detto vado con le impostazioni niente continuavo così poi penso vado indietro e vedo che questa illuminazione strana proprio fastidiosa si verificava esclusivamente in quella in quella porzione di minutaggio sparsa per la puntata apro Netflix sul computer vado allo stesso momento e noto che non c'era questa variazione di luminosità ho detto ma perché fa così? tolgo delle impostazioni che si adattavano alla luminosità rendendola leale niente uguale ho detto ma perché? guardo bene sullo schermo del computer e mi accorgo che impercettibilmente allo stesso minutaggio effettivamente la luminosità la fotografia cambiava ma non lo notavo dovevo proprio star lì così con gli occhi perché non è uno schermo HD è uno schermo normalissimo allora confrontandomi anche ad altre persone mi sono reso conto che non era il televisore semplicemente in quel momento la luminosità delle scene e la fotografia facevano talmente cagare che un televisore particolarmente potente con tante impostazioni riguardo luminosità eccetera lo rilevavano subito cioè questo televisore mi sta aprendo degli orizzonti incredibili se l'avessi visto su quello vecchio che non era full cioè non era full HD ma era uno schermo abbastanza normale senza grandi funzionalità non me ne sarei accorto e quindi io mi rendo conto che ci sono prodotti che magari hanno un lato tecnico imbarazzante sotto diversi punti di vista che magari non si fa notare se lo vedi su un piccolo schermo e io sono rimasto allibito e ho detto porca troia e allora io mi chiedo ma com'è possibile che non si siano accorti di che merda di lavoro in post produzione abbiano fatto per quelle puntate sono due puntate in cui io vi giuro ero tentato di spegnere non riuscivo mannaggia al cazzo a capacitarmi di come cioè io ho perso minuti interi perché ero convinto che il televisore fosse rotto rendetevi conto di quanto facesse schifo la fotografia l'illuminazione in quelle scene io ero allibito ho detto ma cosa cazzo hanno fatto senza contare gli strafalcioni registici come scavalcamenti di campo a caso che ogni tanto poppano fuori però non importa insomma è una serie con personaggi interessanti non particolarmente brillanti ma ci stanno però il reale mattatore di tutto questo è ovviamente il protagonista a Sandy Hop interpretato da Omar Sy Omar Sy per me è un attore bravissimo proprio questa faccia immediatamente simpatica è molto espressivo è carismatico è affascinante io credo che se ho guardato la serie anche con una certa voglia di vedere come andasse a finire il merito è quasi del tutto suo perché se prendiamo la sceneggiatura non è niente di che se prendiamo il lato tecnico non è niente di che la cosa più interessante è proprio lui cioè ti interessa vedere come lui interpreterà certe situazioni è l'unica cosa veramente buona della serie solo che è talmente buona che rende la serie carina e questo è il fatto poi in realtà non è così abominevole come sceneggiatura è solo una sceneggiatura molto di base molto buttata lì che vuole stupirti con cose che si ti stupiscono ma perché sono assurde cioè sono cose talmente oltre il realismo che non ci avresti mai pensato quindi grazie al cazzo che ti vanno a far pensare wow sono sorpreso cioè è quello che dico sempre sono capaci anch'io sorpreso cioè se adesso tipo facessi così mi tirassi via la faccia e sotto ci fosse Pippo Franco minchia penso che direste minchia non me l'aspettavo grazie al cazzo perché non è fisicamente possibile che sotto questa faccia la culo ci sia Pippo Franco quindi capite che sono capaci tutti sono capaci anch'io a dire oh no il ragazzo sta morendo ah ma si è salvato sì d'accordo e sai perché mi sorprendo perché come cazzo ha fatto salvarsi che poi quando mi mostri la scena non ha senso è quello però questi difetti che non sono piccoli non mi hanno inficiato veramente la voglia di guardare la serie perché comunque è una serie simpatica è interessante il riferimento continuo alle opere di Leblanc peraltro c'è una maniacalità nel modo in cui lui opera riproducendo certi grandi casi di Le Pen narrati da Leblanc stesso quindi non puoi non sentire un po' di amore nei confronti di questo prodotto perché sì se lo prendiamo da un punto di vista meramente tecnico e qualitativo la qualità in certi momenti è piuttosto bassa ma sti cazzi perché poi comunque alla fine ci vedi la passione vedi che comunque si sono divertiti a sceneggiarla a girarla a interpretarla e allora pensi ma sì tanto ascolta non è che ci ho speso dei soldi pago l'abbonamento di Netflix me l'hanno messa dentro mi sono passato quattro ore e mezza tranquillo ma che me frega è anche il contesto che fa tanto sono sul divano sono qui che mi sto grattando volutuosamente col mignolo lo scroto guardandomi una serie che mi sta divertendo non mi metto a fare tanto il sottile a dire sì per allora questa inquadratura fa veramente schifo certo l'inquadratura fa schifo ma io a volte decido di farmi andare bene alcuni difetti quindi se volete l'opinione più professionale per quanto io non sia un critico lo ricordo professionale nel senso che sto svolgendo il mio lavoro se volete la mia opinione da un punto di vista più approfondito è quella che vi ho dato la serie ha dei difetti enormi ma se volete l'opinione più da spettatore che è poi quella che preferisco perché è quella che interessa a voi perché voi siete spettatori e voi volete sapere oh ma devo guardare la nostra serie secondo me si deve guardare tutto se avevate un mezzo dubbio ma guardatela non è che perché io ho detto che eh questa cosa non è bella questa cosa non è bella allora non dovete guardarla tanto più che vi sto dicendo addirittura che secondo me è molto godibile per cui ve la godreste in una maniera incredibile per cui va bene così va bene così e poi un'altra cosa ecco questo è un difetto che mi sembra che abbiano allungato veramente il brodo a un certo punto ero lì che dicevo poteva finire con due puntate in meno se mi sa cosa sono cinque puntate potevano fartela se condensavano in tre puntate ti raccontavano quello che voleva raccontarti invece no e Hubert Pellegrini prende il figlio ma poi no non va a buon fine allora lui usa la figlia ma la figlia ah no e però allora lui fa cioè capito è un giro secondo me inutile il 40% delle cose che ti hanno mostrato potevano tranquillamente essere scremate accorpate in meno puntate e sarebbe stata ancora più snella cioè come se nella prima parte cinque puntate andassero bene nella seconda si fossero accorti oh dobbiamo fare cinque puntate come d'accordo con Netflix ma che qua secondo me il materiale non va bene cosa facciamo allunga aggiungi acqua accendi il fuoco fiamma alta e sei a posto cioè a livello proprio di gestione dei tempi si vede che hanno veramente dilatato tantissimo il tutto e avrebbero tranquillamente potuto evitare di farlo dal mio modesto punto di vista non lo so però comunque alla fine ci troviamo in mano con una serie che fa il suo non aveva neanche grosse pretese colonna sonora interessante a me non dispiacevo con colonna sonora dei momenti in cui effettivamente soprattutto quando c'era la risoluzione del caso la colonna sonora è interessante quindi non è assolutamente una serie da buttare però non è neanche da definirla un grande capolavoro la miglior serie mai fatta da netflix perché no nell'ottica di quello che ha fatto netflix non è certamente la cosa peggiore ha fatto di peggio ma non è neanche la cosa migliore diciamo che è una serie innocua che vuole semplicemente raccontarti una storia in alcuni momenti lo sa fare bene in altri un po' meno perché scusate ad esempio quando ti rivela il problema grosso è questo le rivelazioni ti stupiscono ma poi ci pensi come dicevo prima loro sono andati a reclutare un tizio per incastrare pellegrini un uomo che si è dimostrato furbissimo mettendosi in biblioteca nel reparto dedicato a Maurice Leblanc e aspettando che arrivasse una persona abbastanza smart e innamorata di Arsène Lupin da aiutarli mettendo nelle sue mani la riuscita di un piano che se fosse fallito avrebbe decretato probabilmente la fine di Arsène perché pellegrini si serve incazzato ad appunto a fare realmente male alla sua famiglia affascinante l'idea che prendono un lettore di Arsène Lupin un po' buttata lì però poi dire a qualcuno ma guarda il pelo nell'uovo insomma il pelo nell'uovo è un piano molto rischioso che tu metti in mano a uno sconosciuto solo perché ama Arsène Lupin forse un po' però il personaggio poi tra le cose come dicevo i puliziotti sono degli idioti Youssef è l'unico che ha capito tutto e diventa collaboratore di Hassan ma la cosa bella è che gli altri puliziotti no 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 lui è un assassino ma mi ha detto che non è no 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 avevi ragione tu sul fatto che lui si ispirasse a Lupin ok però è un assassino e lui giustamente dice ma ragazzi ma come cazzo fa ma non è un assassino smettetela se non avesse indagato lui se non avesse ricevuto l'indizio dello stesso Hassan questi lo avrebbero cercato e processato per omicidio non si servono neanche posti il problema del ma siamo sicuri indaghiamo meglio no 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 questo qua è morto in casa sua è colpa sua non si accorgono della corruzione che si sarebbe accorto anche mio cugino che il commissario è corrotto perché fa delle cose che sono allucinanti cioè la polizia da questa serie ne esce come una manica di testa di cazzo a cui non affidere neanche la direzione del traffico davanti alla scuola di mio nipote ok cioè a un certo punto vi viene da dire ma siete veramente dei coglioni però comunque tutto sommato è una serie che diverte diverte però non dovete stare a ragionarci troppo perché se ci ragionate troppo cioè è un po' come nei platform in cui devi saltare sulle piattaforme che quando le tocchi dopo due secondi si sgretolano non devi starci fermo passa alla prossima la guardiamo sta serie poi la facciamo processare in un angolo del cervello dove non ci fa incazzare e si passa avanti quindi carina ma con riserve carina ma con molte riserve questo è quello che pensavo circa la seconda parte di Lupin grazie mille di aver seguito fin qui io vi abbraccio vi invito a scrivere in un commento qui sotto cosa ne pensate potete fare spoiler perché tanto tutto il video è spoileroso e noi ci vediamo al prossimo weblog ciao a tutti ciao a tutti